Ciao a tutti, come vedete alle mie spalle mi trovo a New York, dove ho avuto l'opportunità di esibirmi con il mio brano originale al Sing Off Series di Long Beach, questo grazie appunto a Nuove Energie Musicali e a Indie Contest. Ho anche avuto l'occasione di conoscere colui che ha vinto questo contest e quindi sarà automaticamente ospite in Italia. Quindi un abbraccio a tutti, un saluto da New York e ci vediamo in Italia. Ciao!